Virginia Don Domenico, buongiorno! Ma voi la conoscete la zona dell'Alberone a Roma? Beh, dovete sapere che qui vicino c'è un ristorantino Si chiama Saluzzo al Nove E qui con me c'è lo chef, Fabio Cinelli Buongiorno Fabio Buongiorno a voi e grazie per essere venuto Grazie a te e grazie per quello che ci preparerai Che cos'è? Prepariamo delle polpette, cacio e pepe Rimaniamo nella piena tradizione, estremamente semplici Mollica di pane, pecorino, albume, pepe Tutto qua Tutto qua Andiamo a vedere come si preparano E poi esatto, li accompagniamo con i broccoletti ripassati Della crema di zucca e un corallo di pecorino Quindi tradizione romana e vediamo come si realizza questo piatto Con grande piacere Via Poniamo le nostre polpette Allora, intanto per realizzare le polpette Tu hai detto che le hai passate Allora, sono pane, pecorino, pepe, albume Albume Lascio soltanto l'albume perché così non me le colora Rimangono bianche e ricordano il più il pecorino Io ti sto proprio per chiedere questo Quindi tu leggi nel pensiero Ho anche questa capacità Allora, quindi qualche minuto Prepariamo il nostro corallo di pecorino Bene Controlliamo le nostre polpette Pronte Che bel colore Esatto Però guarda Sembra quasi già Non c'è olio Quindi tu stai a fare una fettura magica I broccoletti li abbiamo ripassati Sì Perfetto Quindi il broccoletto al centro del piatto Sì perché insomma ci fa Ci da verticalità Le cosine carine sui piatti Andiamo Questa è una crema di zucca Crema di zucca Zucca Burro Perfetto Ah che bello I piatti con i colori mi piacciono sempre moltissimo Posizioniamo le nostre polpette Esatto Uno Due Tre Grazie Tocco finale del piatto Salve di pecorino Posizionata Esatto Laterale Va bene? Se mi metti Non per mancanza Si sta già lamentando Così è meglio Ci piacciono in tutti i modi Va benissimo anche così Il piatto è pronto L'assistente mangia Grazie Fabio Grazie a voi Vincenia Don Domenico Buon pranzo